I paletti della legge spazzacorrotti, online i curriculum di tutti i candidati. Il conto alla rovescia è già iniziato. Entro domenica 19 settembre, partiti e movimenti politici in corsa per le elezioni regionali di ottobre dovranno pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data del voto. Sono gli effetti della legge cosiddetta spazzacorrotti approvata dal Parlamento nel 2019. La norma che si applica anche nei comuni superiori a 15.000 abitanti chiamate alle urne punta a rendere le elezioni più trasparenti e far sì che i cittadini abbiano maggiori informazioni nel valutare ogni singolo candidato. La spazzacorrotti al comma 14 dell'articolo 1 prevede che entro il 14esimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative ai comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al comma 11 primo periodo hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Messa così, le difficoltà principali non riguardano tanto per le formazioni strutturate e già inserite nel registro ufficiale dei partiti politici, quanto per le liste civiche, nate da poco tempo e ancora sprovviste di un sito internet autonomo. Insomma, sarà una corsa contro il tempo per non incorrere in una delle sanzioni previste in caso di non osservanza della legge. Per le forze politiche inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro a 120.000 euro. Non bastasse, il comma 15 della stessa norma prevede un'ulteriore incombenza per le amministrazioni interessate da questa tornata elettorale autunnale. In apposita sezione, denominate lezioni trasparenti, del sito internet dell'ente cui si trasferisce la consultazione elettorale. Entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, dunque entro il prossimo 26 settembre. Per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, di cui al comma 14 pubblicati in maniera facilmente accessibile, il curriculum vita e il certificato penale dei candidati, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per l'elezione. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Green Pass, in Calabria, sospesi altri sanitari Novax. Sono diverse decine i sanitari Novax sospesi in Calabria. I controlli delle aziende sanitarie provinciali si sono fatti più stringenti durante la scorsa estate e il personale sanitario è in continua crescita. Non ci sono numeri ufficiali, ma l'ultimo caso limite evidenzia i disagi. Nell'ospedale di Vibo Valencia, infatti, è bastato registrare un anestesista positivo al virus e un Novax per paralizzare i servizi del nosocomio, tema che riguarda ormai, soprattutto per queste figure specializzate, buona parte delle strutture sanitarie calabresi. Evasione fiscale, arresti e sequestri in tutta Italia. Dalle prime ore della mattina in tutto il territorio nazionale, 150 carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno eseguito una misura cautelare, coercitiva, interdettiva e patrimoniale nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla Commissione di Reati Tributari e di appropriazione in debita al fine di agevolare alcune società nella sistematica evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e conseguente trasferimento fraudolento di valori. Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spazio di ingenti quantitativi di droga e in particolare hashish e cocaina. Contestualmente i carabinieri hanno eseguito sequestri preventivi di beni mobili e immobili per un ammontare complessivo pari a circa 13 milioni di euro. Furti in gioiellerie, arrestato 48enne di Pianopoli Autore di furti seriali in gioielleria, arrestato dai carabinieri Nella serata del 10 settembre a Pianopoli i carabinieri della compagnia di Girifalco hanno infatti arrestato un 48enne del posto ritenuto responsabile di furto con destrezza in tre gioiellerie della provincia. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Catanzaro a seguito di richiesta della locale procura all'esito di indagini condotte dalla stazione carabinieri di Girifalco. I riscontri investigativi hanno permesso di rilevare come la mattina del 14 agosto l'uomo con il viso coperto da mascherina avrebbe raggiunto Girifalco e dopo essere entrato in due differenti gioiellerie fingendosi interessato all'acquisto di un regalo di battesimo ha approfittato di una momentanea distrazione dei commercianti per sottrarre rispettivamente un braccialetto ed una catenina in oro. Il 26 agosto invece, in una gioielleria del centro di Catanzaro il piano poletano avrebbe finto di voler comprare un gioiello per un regalo di compleanno e mentre il gioielliere intento nella pesatura di un monile si sarebbe impossessato di una coppia di gemelli in oro. Le indagini hanno permesso di mettere a sistema i tre episodi di furto identificare l'autore e restituire uno dei monili al legittimo proprietario. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Contrasto allo spaccio di stupefacenti Un arresto e una denuncia a Catanzaro I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 24enne e deferito in stato di libertà una donna di 57 anni e entrambe del luogo già note alla Forza dell'Ordine. Nel corso del pattugliamento delle piazze di spaccio di Catanzaro Sud i carabinieri hanno notato una macchina ferma in attesa con il motore acceso dentro la quale entrava la giovane con atteggiamento guardingo e sospetto mentre la 57enne era alla guida. Il controllo del veicolo, deciso nell'immediatezza dai militari operanti ha consentito di rinvenire circa 3 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile in un involucro che le donne avevano tentato di aprire per disfarsi dello stupefacente. La successiva perquisizione dell'abitazione della 24enne già gravata da precedenti specifici ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione di mezzo grammo di hashish e di materiale per il confezionamento. Per la 24enne è quindi scattato l'arresto con sottoposizione agli arresti domiciliari mentre la 57enne è stata deferita in stato di libertà alla procura della Repubblica di Catanzaro. Delitto a Crotone, si indaga sul percorso compiuto dai killer. Risalire al percorso seguito dai due sicari che venerdì mattina in sella a una moto hanno messo a segno l'agguato mortale. Stanno lavorando anche su questo gli investigatori della squadra mobile che indagano sull'omicidio di Mario Scarriglia assassinato a colpi di pistola nella sua agenzia di onoranze funebri che apre lungo la centralissima via Giovanni Paolo II. Le immagini delle videocamere degli impianti di sorveglianza presenti nella zona hanno immortalato l'arrivo del sicario in sella a uno scooter condotto da un complice. Casco da motociclista sul capo e mascherina sul volto. Il killer è poi sceso dalla moto, ha raggiunto l'ingresso dell'agenzia di onoranze funebri ed impugnando una calibro 7,65 ha esploso cinque colpi. Quattro proiettili hanno ferito a morte il 45enne, poi è arrivato cadavere in ospedale. Un quinto proiettile ha invece raggiunto sotto il ginocchio sinistro il 53enne AS in bianchino che era insieme a Scarriglia. Poi il killer è risalito sul sellino del ciclomotore, condotto dal complice e si sono dileguati. Gli agenti della sezione, diretta dal vicequestore Ugo Armano, naturalmente cercano la moto utilizzata dal commando, ma stanno passando al setaccio anche altre immagini registrate dalle telecamere che costellano l'intera zona dell'ex via Cutro e non solo. Cercano così di ricostruire l'itinerario seguito dagli autori dell'agguato, potrebbero capire da dove sono arrivati. E questo sarebbe un elemento utile alle indagini sul delitto del 45enne, indagini che appaiono complesse. Gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Alessandro Rò stanno vagliando al momento diverse ipotesi. Mario Scarriglia porta un cognome noto dalle parti del vicino rione di Fondo Gesù, ma il 45enne era considerato, a differenza di qualche suo congiunto, fuori da certi ambienti collaterali, alle endrine locali. Il 45enne assassinato venerdì mattina, a parte il lontano precedente di polizia, per gioco d'azzardo, se precedente si può definire, non aveva mai avuto guai con la giustizia. Ecco perché l'attenzione degli inquirenti, degli agenti della mobile, intervenuti sul luogo dell'imboscata col vicequestore Antonio Concas, si è concentrata anche sulla vita privata della vittima, sulle sue conoscenze, sui suoi rapporti di lavoro e sulle sue relazioni. Si sporge dagli spalti dello stadio e cade, ferito un tifoso della regina. Si esporta eccessivamente dagli spalti dello stadio Ezio Scida di Crotone, forse per protestare durante una contestata azione, ed è precipitato dall'altezza di 3 metri. Un tifoso di Reggio Calabria è rimasto ferito in modo non grave durante il primo tempo della partita tra il Crotone e la regina, valida per il campionato di Serie B. L'uomo è stato soccorso e trasportato al vicino ospedale in condizioni non gravi e i medici del pronto soccorso lo hanno sottoposto ad accertamenti per verificarne le condizioni in seguito alla violenta caduta. Incendio e ambulanza Croce Rossa a Reggio, mezzi ospitati in parcheggio del Consiglio regionale. Dopo il danneggiamento e l'incendio di un'ambulanza alla Croce Rossa di Reggio Calabria, per evitare che episodi del genere possano ripetersi, su proposte il Vice Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, i mezzi alla Croce Rossa, già a partire da questa mattina, sono stati collocati all'interno del parcheggio di Palazzo Campanella, che ospita l'Assemblea regionale. Non ci sono parole di condanna sufficienti per il grave atto vandalico compiuto nei confronti alla Croce Rossa di Reggio Calabria, ha affermato Irto. Un grazie alle forze dell'ordine che hanno già individuato il responsabile del gesto. Qualche giorno fa ho visitato la postazione per i tamponi rapidi alla stazione centrale e ho avuto modo di constatare la professionalità e la disponibilità di tutti gli operatori. Per questo ho espresso la mia gratitudine alla Presidente Daniele Adatto, e a tutti i volontari della Croce Rossa italiana. Da oggi su mia proposta, subito accolta dal Presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, che ringrazio per la disponibilità, i mezzi della Croce Rossa potranno essere ospitate nel parcheggio del Consiglio regionale. Soddisfatti e rassicurati i volontari della Croce Rossa Regine che insieme alla Presidente Dattola hanno condotto le autoambulanze all'interno del cortile del Consiglio regionale. Per Teleionio, Salvatore Condito. Scontro tra due auto a Torano, quattro feriti. Incidente stradale sulla strada provinciale 241 in prossimità dello svincolo autostradale di Torano. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco, due le auto coinvolte, una Mini Cooper ed una Renault Clio. Quattro i feriti che sono stati affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e trasferiti all'ospedale annunziata. A seguito dell'impatto, una delle due auto è carambolata per circa 300 metri innescando un incendio alle sterpaglie situate a bordo strada. Sul posto, i carabinieri di Torano per gli adempimenti di competenza, l'intervento dei Vigili del Fuoco è balso alla completa estinzione delle fiamme e dalla messa in sicurezza del sito. Per Teleionio, Anna Maria Colabralo. Giovane da fuoco alla vegetazione gettando carti infiammate dalla bici, individuato grazie alle telecamere. È stato individuato grazie alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza. Per tale motivo, nei giorni scorsi è stata applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di permanere in casa nei confronti di un minorenne ritenuto responsabile di alcuni degli incendi che hanno interessato la città di Castrovillari lo scorso mese di agosto. Si tratta di un 17enne del posto in cui confronto è stata eseguita la relativa misura cautelare. Il provvedimento disposto al GIP del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro Teresa Tarantino sul richieste del PM Maria Alessandra Ruberto è stato eseguito dai militari delle stazioni carabinieri forestali di Castrovillari a Montaltofugo alle dipendenze il gruppo carabinieri forestali di Cosenza al comando del tenente colonnello Vincenzo Perrone. Gli eventi ingendiarie hanno interessato alcuni terreni incoltici e spugliati gravati da danni alla società pubblica erogatrice e dai servizi telefonici ed illuminazione con la combustione dei pali che sorreggevano i fili che solo grazie al pronto intervento di alcuni cittadini e dei volontari dell'Ampana e dei vigi del fuoco di Castrovillari si è riuscita a spegnere. Nei prestiti uno dei luoghi interessati dal fuoco rappresenta anche un impianto di metanodotto. Il giovane è stato in un primo momento identificato mentre si trovava sul luogo in un incendio dagli uomini del commissariato di Castrovillari insospettiti dalla sua presenza. In seguito l'attività investigativa messa in atto dai carabinieri forestali ha confermato le sue responsabilità. In particolare i militari hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro della bicicletta utilizzata per compili reati e di uno smartphone nelle cui immagini custodite era sintomatica l'osservazione di tali eventi da parte dello stesso incendiario. Ulteriori elementi sulla piena riconducibilità al medesimo sono emersi dal contenuto delle conversazioni intrattenute in chat dove il minorenne nei giorni successivi ha dimostrato preoccupazione per la presenza delle telecamere di sorveglianza manifestando il timore di essere stato identificato. Il ragazzo è stato raffidato ai servizi minorili dell'amministrazione di giustizia. Per Teleionio Salvatore Condito. Per il Tribunale dei minori non fu stupro sulla spiaggia di Soverato giovane serrese assolto. Il Tribunale dei minori ha disposto l'assoluzione del giovane serrese accusato di aver violentato la scorsa estate una 23enne di nazionalità straniera su una spiaggia di Soverato. Lo riporta il Quotidiano del Sud che descrive i particolari dell'esito del primo grado di giudizio. Per l'accusa il ragazzo oggi maggiorenne avrebbe conosciuto la donna ma non le avrebbe fornito le proprie generalità e l'avrebbe costretta a subire un rapporto il Tribunale della Libertà a seguito di apposito ricorso aveva rimesso in libertà l'indagato provvedendo ad annullare l'ordinanza cautelare a suo carico. Lo stesso Tribunale aveva basato la sua decisione sul referto del pronto soccorso dell'ospedale di Soverato e contraddizioni nella versione fornita dalla presunta vittima. Successivamente la Cassazione aveva annullato l'ordinanza di scarcerazione di agosto 2020 e dallo scorso febbraio il giovane è stato inserito in comunità che ha lasciato ieri mattina. L'impianto difensivo è stato predisposto facendo leva sulle fonti testimoniali e sul referto che, ad avviso dei legali, ha di fatto escluso la presenza di una violenza sessuale. Niente diffamazione al sindaco di Torre di Ruggero archiviato il procedimento contro Maria Teresa Sanzo. Il giudice per le indagini preliminari Francesco Vittorio Rinaldi del Tribunale di Catanzaro ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Maria Teresa Sanzo, difesa dall'avvocato Frank Mario Santacroce, scaturito dalla querela Sporta in data 22 gennaio 2018 dal sindaco di Torre di Ruggero Mario Barbieri. Per la diffusione da parte della stessa mezzo social network Facebook sul profilo aperto di Forza Italia Circolo di Chiaravalle Centrale una nota contenente critiche con riferimento all'asserita assegnazione di incarichi presso il comune a favore di parenti e amici. Il giudice ha dunque accolto la richiesta di archiviazione presentata dal PM per l'infondatezza della notizia di reato in quanto a parere del giudicante tali condotte sono idonee a configurare la scriminante del diritto di critica politica ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 595 del codice penale. Maria Teresa Sanso nel ringraziare pubblicamente l'avvocato Santa Croce per la difesa svolta ha dichiarato che finalmente è stata fatta giustizia con l'augurio che la politica possa tornare ad essere esercitata attraverso il confronto ed il dialogo nelle sedi a ciò preposte destinando i soldi dei cittadini contribuenti ad altre finalità sicuramente più urgenti ed indifferibili. Torre di Ruggero la replica del sindaco la vicenda processuale a carico di Maria Teresa Sanso non è chiusa l'ordinanza di archiviazione del GIP per diffamazione a mezzo stampa è stata impugnata davanti alla corte di Cassazione con riferimento alla nota non era diffamazione ma critica politica l'amministrazione comunale di Torre di Ruggero guidata dal sindaco Mario Barbieri precisa quanto segue l'ordinanza di archiviazione del GIP di Catanzaro dottor Francesco Vittorio Rinaldi inerente il procedimento di diffamazione a mezzo stampa a carico di Maria Teresa Sanso scaturito dalla querela sporta dal sindaco di Torre di Ruggero è stata impugnata davanti alla corte di Cassazione il sindaco Mario Barbieri dichiara infatti che il GIP di Catanzaro non ha escluso il contenuto denigratorio e l'infondatezza delle affermazioni contenute nella nota dei coordinatori locali di Forza Italia ma ha specificato che le stesse rappresentino opinioni personali come tali congetturali quindi non vincolate al requisito della veridicità degli autori e tuttavia continua il sindaco la distinzione operata dal GIP tra diritto di critica e diritto di cronaca poggia sull'erroneo presupposto giuridico secondo cui il requisito della veridicità rileverebbe solo per l'integrazione del secondo la pronuncia pertanto ad avviso dell'amministrazione comunale di Torre non ha tenuto conto del costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui il criticante quando giunge ad accusare il criticato di veri e propri comportamenti antigiuridici deve quantomeno indicare il fondamento fattuale delle sue accuse sul presupposto rilievo che la critica non è svincolata dal requisito della veridicità in relazione al fatto che si intende criticare per queste ragioni tenuto conto che la nota diffusa dagli indagati riportava fatti e circostanze falsi e pretestuosi trasmodanti il diritto di critica politica l'amministrazione ha dato in carico al suo legale di fiducia all'avvocato Valerio Murgano del Foro di Catanzaro al fine di impugnare il provvedimento e ristabilire la verità storica e giuridica di quanto accaduto conclude il sindaco Barbieri non consentiremo mai a nessuno di buttare fango sull'amministrazione e sulla comunità di Torre la vicenda processuale quindi è tutt'altro che chiusa e attenderemo fiduciosi la pronuncia della Suprema Corte emergenza cinghiale a Girifalco scatta una petizione popolare una petizione popolare promossa da Rocco Tolonex assessore al comune di Girifalco in merito alla critica emergenza causata dai numerosi cinghiali presenti sul territorio è stata inviata al sindaco per sollecitare un solente intervento i sottoscritti cittadini del comune di Girifalco si legge nella petizione con tanto di firme allegate nella loro qualità di proprietari di terreni agricoli esistenti sul territorio spiegano che ormai prassi giornaliere che in varie zone del nostro territorio anche internamente all'abitato siano segnalate presenze numerose cinghiale che devastano le culture agricole invadendo giardini e orti inoltre segnalano che l'unica iniziativa assunta quest'estate per fronteggiare il problema è stato l'invio da parte della regione Calabria di alcuni selettori che hanno abbattuto pochissimi capi rispetto al numero esistente e che i danni alle culture mortificano il morale di chi si impegna a mantenere in ordine con sacrificio le campagne vicine oltre naturalmente per regare danni economiche alle famiglie e piccole imprese che invece vivono dei nostri prodotti della terra ma se non bastasse per l'intralcio alla circolazione stradale è sempre concreto il pericolo per la vita degli utenti della strada visto l'elevato numero di incidenti stradali che sono conseguenze delle passeggiate fatte dagli ungulati per le pubbliche vie urbane ed extrurbane da qui l'appella ad adottare soluzioni nel più breve tempo possibile per Teleionio Salvatore Condito ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco lavori ancora da completare e Soverato finisce sott'acqua circa 30 interventi per allagamenti effettuati dai vigili del fuoco nella sola cittadina di Soverato pavimentazioni di velte sottopassi inondati dal fango auto sprofondate nei detriti 50 minuti di pioggia hanno messo in ginocchio la città se avesse piovuto per altri 20 minuti sarebbe stato un disastro e avremmo dovuto evacuare i primi piani delle abitazioni commenta il vice sindaco Daniele Vacca e lui delegato ai lavori pubblici il principale interlocutore di chi ha tentato di comprendere come si sia arrivati allo stesso punto in cui si era dopo l'alluvione del 2011 nonostante l'investimento di 3 milioni di euro che aveva dichiarato lo stesso Vacca nel 2019 avrebbe risolto definitivamente il problema i lavori sono partiti a fine primavera e anche dove sono stati realizzati non hanno bloccato la circolazione senza controllo dell'acqua piovana il progetto spiega il vice sindaco non è stato ultimato i lavori sono ancora al 10% sono stati portati avanti per poco più di un mese e si sono interrotti a luglio per non creare disagi nella stagione estiva riprenderanno domani ma ci vorranno almeno altri 4 mesi per completarli il tratto realizzato per dimensionare le condotte di flusso sul viale Magna Grecia non ha ancora uno sbocco al mare per cui non poteva servire a evitare gli allagamenti i tecnici comunali hanno individuato le criticità che confermano i limiti del sottodimensionamento dei fossi è traccimato il fosso Marini spiega ancora il vice sindaco da lì è partito il fiume d'acqua che ha inondato il sottopasso e le vie cittadine è uno degli interventi in programma nei prossimi mesi i detriti invece sono arrivati da suo velato superiore la siccità alternata a una pioggia che ha fatto cadere 120 mm di acqua non ha permesso ai terreni di assorbire l'acqua che è scesa a valle posso dire a chi non parla di evento straordinario che nel quartiere di Caramante l'acqua ha sollevato la pavimentazione cosa mai accaduta finora intanto il sindaco ha chiesto lo stato di calamità mentre sgomberate le strade che sono tornate fruibili si fa la conta dei danni ancora una volta hanno colpito commercianti e privati cittadini scese a spalare nel weekend la scelta politica di sospendere i lavori nella stagione estiva nel frattempo riaccende gli scontri con il gruppo di opposizione a essere contestate le modalità con cui sono stati realizzati i sottoservizi nel nuovo corso e la scelta di non aver mai diviso in alcune zone della città le acque bianche da quelle nere la manutenzione sbotta la consigliera di minoranza azzurra Ranieri fa acqua da tutte le parti i soldi pubblici vengono investiti in lavori fatti male e gestiti nell'ottica del risparmio dei materiali una visione che viene rafforzata dalle dichiarazioni del consigliere Giacomo Mannino la responsabilità è di chi si è dimenticato della città per inseguire altri traguardi e manordinanze salva coscienza ma non provvede a disporre la pulizia degli scogli e dei tombini di chi ha realizzato un corso senza verificare che i sottoservizi atti al deflusso delle acque piovane siano di adeguata portata di chi attiva il COC senza fornire mezzi adeguati al contrasto delle emergenze Santa Caterina dell'Oionio Severino la sicurezza del territorio e la reggimentazione delle acque sono priorità per l'amministrazione all'indomani del violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale e in altre realtà limitrofe a noi ci tengo a esprimere la mia vicinanza ai tanti primi cittadini che come me in queste ore sono stati chiamati a fare i conti con i danni che la pioggia ha determinata alle comunità il sindaco di Santa Caterina dell'Oionio Francesco Severino prende posizione e spiega che la messa in sicurezza del territorio e la reggimentazione delle acque qui a Santa Caterina dell'Oionio sono una priorità di questa amministrazione che sin dal suo insediamento si è messa a lavorare tenacemente per intercettare tutti i finanziamenti possibili avviando una programmazione virtuosa che prevede la realizzazione di opere strategiche ed indispensabile per la collettività per tale ragione diversamente dalla situazione generale sostiene il primo cittadino abbiamo registrato soltanto qualche criticità legata ai lavori in corsi località Petruso alla quale abbiamo posto rimedio attraverso il tempestivo intervento non soltanto mio ma anche del vice sindaco assessore e consigliere di tutti unitamente all'ufficio tecnico comunale al COC e alle forze dell'ordine i vigi del fuoco e alla ditta che sta realizzando i lavori a loro aggiungeva il mio sentito grazie per aver gestito l'emergenza in maniera impeccabile anche il sottopassaggio d'accesso a lungomare per via della bomba d'acqua si è allagato prontamente è stato sgombrato dalle acque fangose ma insieme ai tecnici stiamo valutando gli interventi per realizzare per favorire il flusso delle acque in caso di forti precipitazioni superando definitivamente una problematica che ci portiamo dietro sin dalla costruzione del ponte in questa sede voglio ringraziare anche tutti i cittadini che ci hanno aiutato in queste ore particolari sia nelle strade pubbliche che nelle abitazioni di alcuni privati è in questi momenti che deve uscire fuori uniti per aiutare chi ha bisogno ed anche per i loro sforzi conclude che siamo riusciti a scongiurare danni più seri e a mantenere integra l'incolumità collettiva per Teleionio Salvatore Condito nuovo sbarco nella Locride in arrivo 26 migranti erano a bordo di una barca a vela di 10 metri in balia del mare particolarmente mosso 26 migranti di nazionalità iraniana e irachena sono stati soccorsi dalla guardia costiera a molte miglia di distanza dalla costa di Bovalino in provincia di Reggio Calabria l'imbarcazione è stata raggiunta da unità della guardia costiera non potendo trainare per le cattive condizioni atmosferiche del mare la piccola imbarcazione a vela i migranti sono stati trasferiti in una delle motovedette della guardia costiera e condotti in sicurezza nel porto di Roccella Ionica dove sono giunti prima dell'alba appena sbarcati tutti i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e di seguito sistemati momentaneamente nel centro di primo soccorso e accoglienza di Roccella struttura messa a disposizione dal comune Reggino e gestita dalla locale sezione della protezione civile con quello di stamattina è salito a 25 il numero degli sbarchi che si sono finora verificati nella sola striscia di costa della Lopide negli ultimi tre mesi per Tele Ionio Anna Maria Colabrano Gasperina Solidale una mano d'aiuto al popolo afgano Gasperina Solidale in favore del popolo afgano il comune ha pubblicato un avviso pubblico per l'adesione ai progetti di accoglienze in favore di famiglie profuga afghane nell'ambito del sistema accoglienze integrazione attivato al ministero dell'interno attraverso la messa di esposizione di appartamenti da parte di proprietari di alloggi singoli privati imprese di costruzione Gregorio Gallello il comune di Gasperina ha dato la disponibilità ad accogliere due famiglie afghane composte da un massimo di sei componenti pertanto si ha la necessità di perire due alloggi i soggetti interessati entro venerdì 17 settembre 2021 alle ore 14 potranno contattare l'ufficio tecnico comunale per avere informazione e valutare l'adeguatezza del proprio immobile rispetto alle finalità ed esprimere l'adesione al progetto ci si può rivolgere in avviso completo presso consultabile sul sito www.comune.gasperina.cz.it per Teleionio Salvatore Condito Torre di Ruggero un successo la seconda giornata del primo festival della nocciola bio di Calabria successo di attenzione di pubblico per il convegno nocciola bio territorio turismo esperenziale il valore dell'identità locale previsto nell'ambito del primo festival della nocciola bio di Calabria promosso dal comune di Torre di Ruggero è attuato dall'associazione culturale nocciola biologica calabrese finanziato da contributo regionale al tavolo dei relatori ospiti relatori di consolidata esperienza nell'ambito della progettazione e promozione dello sviluppo locale di primo piano la presenza di Rosario D'Acunto presidente dell'associazione nazionale città della nocciola della nocciola e presidente dell'associazione professionale operatori del turismo esperienziale docente a contratto di economia aziendale e marketing presso varie università italiane la sapienza di Roma e la Federico secondo di Napoli esperto di programmi e strategie per promozione dello sviluppo territoriale all'attivo diverse pubblicazioni sul turismo culturale e promozioni della sostenibilità ambientale ospitalità dei territori creatività accoglienza e network per lo sviluppo rurale la nocciola come risorsa per questo territorio già nei decenni scorsi poteva avere un ruolo importante e poteva essere di volano all'intera economia perché questo perché finalmente con la globalizzazione ci si è resi conto che le diversità e le tipicità di un territorio possono essere il motore dello sviluppo economico del territorio stesso purtroppo nei decenni scorsi si è perso un po' di entusiasmo rispetto alla produzione della nocciola ma il lavoro che il consorzio e l'associazione hanno fatto negli ultimi anni è un lavoro egregio che sta realmente creando delle solide basi delle solide fondamenta per una strategia che punti sulla nocciola di Calabria non solo per le sue caratteristiche organolettiche ma punti sulla nocciola di Calabria anche per il coinvolgimento delle comunità locali cioè in altri termini come il lardo di Colonnata è stato la fortuna di una frazione anonima di Carrara Colonnata la nocciola di Calabria deve essere la fortuna e quindi il motivo di successo per questi territori di Torre di Luggero di Cardinale cioè in altri termini non bisogna più produrre per la vendita all'esterno o peggio ancora per l'esportazione ma bisogna produrre per la trasformazione in loco del prodotto stesso quasi a voler dire che un chilo di nocciola di Calabria deve dispiegare tutta la sua potenzialità economica nel territorio quindi un chilo di nocciola di Calabria io me lo immagino trasformato nel luogo me lo immagino utilizzato nella ristorazione nei servizi che promuova ricettività che susciti occasioni di degustazione e ancora che permetta di organizzare itinerari turistici e soprattutto oggi che non siamo più nell'economia della produzione dei servizi permetta anche di promuovere creando allestendo ed erogando esperienze turistiche professionali e affidabili il caso di questo convegno stasera permetterà proprio di presentare il progetto di destinazione da località a destinazione di turismo esperienziale cioè in che modo una realtà che ha una sua tipicità che può essere utilizzata da vettore può costruire sul palcoscenico del territorio col genius loci della nocciola ma anche della storia del folklore della cultura locale una destinazione di turismo legata alle esperienze locali chiaramente intervenendo sulle risorse umane trasferendo competenze puntando sulle passioni e solo a questo punto è bene mettere in campo il turbo della distribuzione e quindi veicolare con un club di prodotto esperienze professionali che abbiano un loro marchio di aria che parta proprio dalla nocciola di Calabria promossa dal consorzio in effetti il tavolo curriculum nazionale doveva avere già un ruolo importante negli anni scorsi quando non è stato riconvocato e quando purtroppo alcuni player nazionali e internazionali hanno portato le regioni a fare delle scelte che la stessa Corilicoltura Calabra non ha accettato cioè in altri termini dopo il piano Corilicolo 2010-2012 c'è stato un periodo di vuoto di una governance e di una politica nazionale condivisa noi come associazione nazionale città della nocciola abbiamo fortemente voluto la riconvocazione del tavolo per questo nuovo piano cosa si è ripresentato al tavolo problemi vecchi e problemi nuovi problemi antichi come quelli dei difetti della nocciola dovuti al cambio climatico ma il cambio climatico è anche un problema nuovo quindi senza voler puntualizzare in questa sede alcuni aspetti legati alla trasformazione alla commercializzazione e ad altri aspetti ancora legati alla ricerca la presenza stessa al tavolo corilicolo di Giuseppe Rotiroti del territorio in rappresentanza della nocciola di Calabria sta a significare che il territorio attraverso Giuseppe Rotiroti deve portare le istanze della nocciola di Calabria è chiaro che noi non andiamo a fare una sommatoria di campanile perché come associazione città della nocciola abbiamo promosso già dieci anni fa il marchio nocciola italiana che riassume non solo le nocciole a marchio IGP e DOP ma anche le nocciole bio e le diverse cultivar italiane di pregio il consiglio per il consumatore è semplicissimo diffidate dall'acquisto sugli scaffali della GDO di quelle confezioni da 0,99 perché quelle confezioni portano le nocciole a pagarle a 35 40 euro al chilo acquistate invece una riserva di nocciole per la vostra dispensa 3 kg 5 kg 10 kg andando nei territori della nocciola italiana quindi venendo in questo territorio calabrese o andando per le diverse regioni corilicole italiane così come si fa per i vini così come si fa per l'olio cioè in altri termini oggi il consumatore nell'economia dell'esperienza è sempre più disposto a regarsi nei luoghi di produzione per apprezzare un prodotto di qualità ma anche per conoscere gli stili di vita della comunità locale che utilizza quel prodotto come il caso della nocciola non solo nella pasticceria ma anche nella gastronomia e la nocciola stessa con la figura del contadino pasticcere che noi abbiamo creato e di cui abbiamo avviato l'albo la nocciola stessa si trasforma anche in ricettività ristorazione turismo offerta turistica servizi eventi intrattenimento abbiamo diversi casi in Italia voglio soltanto citare la cascina Barroero dove una coppia di giovani coltivatori di nocciole oggi con 5 figli e quindi una famiglia di 7 persone hanno una bellissima azienda agricola che produce nocciole trasforma nocciole però fa anche ricettività ristorazione eventi e intrattenimento turistico poi in altre e questa è cascina Barroero in un'altra regione abbiamo invece masseria della nocciola che è un resort e spa sulla nocciola quindi quasi a voler dire mai portare fuori dal territorio le nocciole ma trasformarle sul posto perché no anche in Cosmoisi e quindi in centri di benessere Nei prossimi giorni un ampio servizio